Per la gran parte dei soldati è un fulminaccio sereno, come in tutte le altre parti dove si trovano soldati italiani, tranne nei comandi che erano già a conoscenza di operazioni di trasferimento e di che qualcosa stava succedendo. È una situazione in cui molti devono scegliere direttamente, mancano ordini, mancano disposizioni e soprattutto i comandi superiori non usano più di tanto. Ci sono tutta una serie di situazioni anche diverse. Comunque da certa parte i soldati sono spinti a lasciare le armi, soprattutto quando non hanno altre disposizioni, vengono spesso lasciati liberi, lasciare le armi e tornare a casa, dove ciò è possibile, cioè nelle zone più vicine al territorio italiano come Slovenia, Croazia, anche Dalmarsia vicino al mare. D'altra parte sono pressati, dopo pochissimo tempo, dai soldati tedeschi che sono meno numerosi come numero, ma molto più attrezzati, anche organizzati perché lì le disposizioni per intervenire di fronte a una resa italiana ormai prevedibile e di cui erano già a conoscenza e che li siamo già preparati. E sull'altro versante i partigiani jugoslavi che anche prima attaccano i soldati italiani poi cercano di convincerli a lasciare le armi a loro, a lasciare armi ed equipaggiamenti, permettendo loro di prendere dove era possibile la strada di casa o se era possibile accogliersi tra di loro. E queste sono situazioni in cui a tutti i livelli, dal soldato semplice fino all'alto ufficiale, non sanno effettivamente molto spesso che pesci per iunger. Grazie. Grazie.